La Lazio sembra aver messo a segno il primo colpo di quest'estate perché Bobby Adegagne sembra aver firmato un contratto con la Lazio, manca l'annuncio ufficiale, si parla di 4 anni a mezzo milione per il ventenne ala esterna dell'Olanda che giocava nel Liverpool. In realtà uno dei motivi per cui ha firmato con la Lazio è perché si è trasferito da Barcellona a Liverpool per finalmente fare l'esordio nei professionisti e invece si è ritrovato nella squadra riserve del Liverpool e questo è stata una cosa che non ha fatto sicuramente piacere alla l'olandese e per questo non ha rinnovato il contratto con Liverpool e la Lazio si è inserita nella trattativa e ha strappato il giovane esterno olandese. Un po' come Pogba con Manchester United, forse vi ricorderete, Pogba era dispiaciuto che Ferguson non l'aveva fatto esordire in prima squadra e la Juve si è inserita e ha strappato il giocatore al Manchester United. Ovvio che sarebbe bello se il giocatore ripercorresse la carriera del Pogba, parliamo di due giocatori differenti anche come ruolo, qua parliamo di un esterno d'attacco, Pogba era un centrocampista che poteva ricoprire più ruoli. Pogba è presso per dire se questo nuovo Pogba, ma sicuramente è un giocatore interessante, un giocatore molto veloce, tecnico, molto bravo negli assist. Adesso se vedete la scheda tecnica scoprirete che in realtà non ha fornito tanti assist, beh se andate a guardare le partite lui di assist ne ha forniti, poi centravanti del Liverpool della seconda squadra ha sbagliato l'impossibile. Per cui a volte i numeri ingannano, soprattutto quando si tratta di assist, lui le palle dentro è molto bravo a metterle, poi bisogna trovare il centrovanti che le sfrutta. Ma secondo me la notizia importante di questo acquisto è che parliamo di un esterno d'attacco e in che ruolo può giocare nel 3-5-2 AD Cagne? Nessuno, parliamo di un'ala esterna e questo mi fa pensare che prossimo anno Simone Zaghi possa cambiare schema e passare da un 3-5-2 ormai fisso da due anni a un 4-3 che abbiamo visto apparire un po' nei secondi tempi quest'anno nella Lazio. Questa è una delle ultime Lazio 3-5-2 con Patrick centrali di difesa, Marusic e Lulic sulle fasce e Correa dietro immobile con Milinko Isavic e Luis Alberto. Come può cambiare questo 3-5-2? Lo vediamo subito. Abbiamo detto Patrick si può allargare, Acerbi e Rado possono fare i centrali, Lulic può venire qua, a centrocampo non cambierebbe niente, Correa abbiamo detto che può giocare esterno, al posto di Marusic potrebbe entrare un pedroneto e questo qua è un 3-5-2, è un 4-3-3 molto offensivo perché hai sia Milinko Isavic che Luis Alberto al centrocampo ma abbiamo visto i due già giocare così nel 3-5-2 di ultima fattura di Simone Zaghi quindi un 4-3-3 molto offensivo e con Correa secondo me che si può muovere da tutte le parti, venire centralmente e fare spazio a Milinko Isavic, bravo ad inserirsi con la palla lunga. Correa ama svariare su tutto il fronte, Pedro Neto che parte largo e può anche lui accentrarsi, Luis Alberto farebbe un po' il playmaker insieme a Lucas Leiva con Milinko Isavic che sale, quindi sarebbe una Lazio molto offensiva. Perché metto Patrick qua? Perché Patrick abbiamo visto già nel 3-5-2 amare salire e quindi potrebbe aiutare Pedro Neto da questa parte e costringere la fase gli avversari a difendere. Ovvio che con Savic e Luis Alberto giocare a centrocampo la Lazio rischia di essere un po' scoperta e questo sarà importantissimo Lucas Leiva ma a mio avviso la Lazio ha a disposizione altre soluzioni più difensive. Non ci dimentichiamo che non sta giocando Parolo e Parolo potrebbe essere un innesso per dare più equilibrio alla squadra. Si potrebbe quasi giocare con Parolo e Leiva sulla linea dei mediani e Luis Alberto un po' più avanti. Io qua ho messo Pedro Neto perché ovviamente è la stella un po' della squadra ma parlando del nuovo acquisto a De Bacane potrebbe anche giocare lui da questa parte. Ecco forse il problema è che al momento non c'è un vero sostituto di Correa. Potrebbe esserci una soluzione un po' più difensiva con Romulo da una parte e a De Cagne dall'altra. Romulo sappiamo che ha giocato in questa posizione può anche dare una mano in fase difensiva e tornare a fare un centrocampo quasi a 4 in fase difensiva per garantire ulteriore copertura alla Lazio e poi scalare. Un ruolo che onestamente può fare anche Marusic per cui la Lazio ha tante opzioni. A me onestamente piace molto il centrocampo ultra offensivo con Milinkovic Savic, Luis Alberto giocare come interni di centrocampo. Sarebbe un centrocampo molto offensivo un po' come quello che sta attuando Simone Inzaghi adesso. Certo poi ci sono tante soluzioni a mio avviso anche a centrocampo. Ripeto forse manca un'ala offensiva da schierare insieme a Immobile e eventualmente Correa. Io credo che questa potrebbe essere la soluzione migliore per vedere finalmente Pedro Neto titolare. Pedro Neto che ha dimostrato di avere tante qualità. Ha fatto 3 gol nella penultima partita con la propria nazionale per cui è un giocatore sicuramente che ha bisogno di giocare. E col 4-3-3 finalmente vedremo Pedro Neto giocare di più. Ripeto schema molto interessante. Vedremo se Simone Inzaghi adotterà questa soluzione. Insomma non voglio dire che sicuramente l'anno prossimo la Lazio cambierà e passerà a un 4-3-3. Ma vi ho dato delle soluzioni interessanti che permetterebbero a Simone Inzaghi di cambiare schema e di tornare a un 4-3-3. Come del resto ha allenato nel settore giovanini, nei allievi, nei giovanissimi e nella prima era della Lazio. Anche il primo anno in prima squadra Inzaghi era partita con un 4-3-3 e poi passare a un 3-5-2. Staremo a vedere. Sicuramente per me con Pedro Neto e Ade Bacani ci sono più opzioni e sembra più plausibile giocare con un 4-3-3. Altrimenti chi acquisti fai? Perché compri un giocatore del genere che può giocare solo in questo ruolo? Secondo voi la Lazio cambierà un 4-3-3 l'anno prossimo? Scrivetelo nei commenti qui sotto. E se non siete ancora iscritti per favore cliccate il bottone iscriviti alla campanella in modo tale che riceverete una notifica ogni volta che farò un nuovo video. E se vi è piaciuto questo video per favore cliccate il bottone like così saprò che vi piacciono questi video tattici. Grazie a tutti, alla prossima!